Allora, vediamo un attimino che cosa fa però il nostro caro amico qua, perché sennò è un problema. Ok, oddio, 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 oddio. Ma non me lo ricordavo così. Vabbè, l'ammazziamo tanto è un bot. Ma quanto corre questo? Aiuto. Oddio! Devo scappare. No, non c'è bisogno in realtà. C'è otto energie c'ha. Ok, due e tre. Ok, ulti attivata, anche l'overdrive. Forse ho sbagliato, l'aga, la dovevo attivare troppo dopo, vero? Sì, ho sbagliato. Ah, no, aspetta, no, tecnicamente l'ho attaccata con l'ulti, però no. Sì, l'ho attaccata con l'overdrive, no? Vabbè, andò sta ferma. Via, uno e due. Perfetto.